Nella prima settimana del 2020 è salito il numero di casi di sindrome simil-influenzale dopo il lieve calo registrato nella precedente settimana. L'aumento si registra nei giovani adulti e negli anziani rispetto ai bambini e ragazzi sotto i 15 anni, dovuto ancora alla chiusura delle scuole per le festività natalizie e quanto si legge nell'ultimo bollettino in Flunet curato dall'IS. In Italia l'incidenza totale è pari a 4,7 casi per mille assistiti, colpiti maggiormente i bimbi al di sotto dei 5 anni, in cui si osserva un'incidenza pari a 10,4 casi per mille assistiti. I casi diventano sempre più numerosi e soprattutto più gravi. Le regioni più colpite sono Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Campania. Dopo la febbre alta, nausea, disturbi intestinali, l'influenza diventa ancora più forte e porta con sé polmonite e bronchite. Sono stati registrati moltissimi ricoveri su alcune persone e le complicazioni sono anche rischiose. La febbre influenza regionalmente supera i 38 gradi. Il Ministero della Salute ha riportato i sintomi tipici dell'influenza stagionale, spiegando che includono tipicamente l'insorgenza improvvisa di febbre alta, tosse e dolori muscolari. Altri sintomi comuni includono mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento e mal di gura. Possono verificarsi anche nausea, vomito e diarrea specialmente nei bambini.